Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Un luogo straordinario, uno scrigno nello scrigno Abbiamo al suo interno la più grande, la più importante collezione etrusca che abbiamo al mondo Abbiamo il sarcofago degli sposi, simbolo dell'Etruria nel mondo Vi invito a venire e vi invito ad abbonarvi a Villa Giulia Ho donato un abbonamento a un mio amico affinché possa venire qui al Museo di Villa Giulia Per ammirare e avere le stesse sensazioni che ho avuto io nel fotografare e nel narrare la storia di queste opere Salve, sono Giancarlo, sono un abbonato al Museo di Villa Giulia Frequento molto spesso questo museo per tutte queste iniziative che, ripeto, mi interessano molto Porto degli amici Spero di convincere qualcuno anche quest'anno a fare l'abbonamento al museo E per me è stata, ripeto, una vera e bellissima scoperta Perché non lo ricordavo in questo modo, una cosa straordinaria Sono quasi a casa mia quest'anno qua dentro Per Natale regalati un abbonamento oppure regalano Per venire a scoprire tutte le meraviglie che sono nascoste in questa sala e in questo museo Perché regalare un abbonamento? Perché l'abbonamento a Villa Giulia non consente di accedere soltanto al museo Ma consente di vivere tutti gli spazi, gli eventi e le mostre uniche che la struttura offre durante l'anno In un contesto che a Roma non è uguale Oh happy day Oh happy day When Jesus washed When Jesus washed He washed my sins away He washed my sins away He taught me how To wash Fire and pray Fire and pray Oh yeah E P Grazie a tutti.